Astronauticast Astronauticast, i volumi non saranno mai a posto, neanche la terza puntata della stagione 5 che è quella di adesso, ragazzi non ce la possiamo fare Astronauticast just di Milano, io sono Michael Sacchi, dovrei passare la parola a Paolo Amoroso che non è qui con me, non è agli studio remoti quindi passiamo direttamente a quell'altro signore, quello là che si sta provando gli occhiali da sole mi sembra Marco Zambianchi dagli studi remoti Una buonasera a tutti voi amici, ben ritrovati dopo una settimana di assenza, vi mancavo eh? Sì, ci mancavi così come ci manca un regista degno di questo nome, ecco qua, abbiamo più o meno sistemato i volumi che inizio tragico ragazzi, ma non ho assolutamente intenzione di rifarlo, quindi ciao Marco adesso anche la tua immagine è particolarmente chiara e cristallina ti si vede molto molto bene, ti si vede anche la leccata di mucca che hai sistemato i capelli in maniera molto molto ehm, sì 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 sì, no, basta così va bene passiamo la parola al nostro Luigi Morielli da Ovest Ticino, che armagnola Buonasera a tutti, benvenuti alla terza puntata, meglio proseguire mentre le notti di Isca sotto, che si è fatto sentire fin troppo forte, sfumano passiamo la parola a Riccardo Rossi da Modena ciao a tutti gli amici in chat e tutti quelli che ci ascoltano, sia in diretta che in differita, qui da Modena allora, puntata numero 3, ce l'abbiamo fatta eh, sono 40 minuti di ritardo ragazzi ci scusiamo con gli amici in diretta, assolutamente non avranno notato nulla quelli in differita perché la pubblichiamo sempre tardi e se la scaricheranno al mattino come minimo ehm, su iTunes e poi parliamo anche di quello saluti di rito, questa è la parte del podcast che si occupa dei saluti e di raccontare un po' la parte sociale, quello che è l'associazione Isam Marco Zambianchi, vediamo se ha qualche aggiornamento in particolare da parte mia vi dico semplicemente che se state seguendo un po' le vicissitudini di forumastranautico.it in questo giorno, in questi giorni avrete notato che i problemi tecnici sono un pochettino aumentati abbiamo fatto un cambio di provider che è andato abbastanza liscio più di quello che è successo altre volte ma c'è qualche problema di assestamento non abbiamo il supporto pieno del provider diciamo che ci sta togliendo un po' le risorse quindi sembra un po' lento, cercheremo una soluzione a lungo termine però al momento ve lo beccate così com'è però, però, però altre cose che coinvolgono l'associazione è la collaborazione del nostro Marco Zambianchi che forse aveva accennato qualche volta con il podcast di Scientificast io ho avuto modo di ascoltare non ancora tutta la puntata ma almeno il suo intervento nell'episodio 3 che potete trovare su scientificast.it ma ve la faccio raccontare da lui che sta masticando però no, io in realtà non è vero non sto masticando ero qui in attesa tranquillissimo e ho avuto il piacere di essere invitato a collaborare con Scientificast da parte dell'amico podcaster Paolo Bianchi è già uno degli storici podcaster italiani con un podcast anche dedicato al rock estremo una cosa un po' distante dai miei gusti musicali comunque a portare una voce di astronautica nel contesto più ampio scientifico di scientificast che vi invito tutti quanti a scaricare ad ascoltare è ripreso questo podcast dopo un lungo hiatus come si dice Michael tu che sei un esperto di pronuncia inglese corretta è una di quelle parole che leggo sempre e non dico mai in sostanza c'è stato un periodo sabbatico di un paio d'anni più o meno in cui Scientificast non è uscito ma adesso il duo Paolo Bianchi e perché lo devo dire il classico lapsus del pistola di cui mi scuso il suo collega adesso mi verrà in mente appena parlerà qualcun altro hanno ricominciato a mille con una serie anche di interviste molto interessanti tra le quali non mi includo Simone Angioni Simone Angioni bravo un chimico dell'università di Pavia che è socio come me del CICAP e oltre appunto è uno dei due conduttori di Scientificast per quanto mi riguarda poi stiamo mettendo fione in cascina per Astronauticon quest'anno come ricorderete è scivolata da novembre ad aprile non abbiamo certo rinunciato ad organizzarla stiamo vedendo un po' quali sono le possibilità che si aprono dal punto di vista dell'ospite ma stiamo anche lavorando a un appuntamento qui nella zona di Lecco con Paolo Nespoli siamo in attesa di una conferma di questo momento d'incontro che è successivo al post-flight tour questo per quanto riguarda quello che bolle in pentola in associazione ISA ma gli aggiornamenti sono sempre presenti saranno pronti anche la settimana prossima probabilmente con qualche dettaglio in più bene 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 allora l'altra notizia che farei raccontare a Paolo Amoroso se fosse qui perché lui ha raccolto le informazioni anche se il posto originale è di Francesco Sacchi il mio quasi omonimo ma molto molto più tecnicamente preparato di me vorrei anche inquadrare lo schermo eccolo qua se andate sul sito www.stratospera.com che ormai vi abbiamo raccontato alla nausea il nostro progetto di pallone stratosferico che porta una serie di strumentazioni tecnologiche dalla fotocamera a sensori ambientali nello spazio ancora siamo in fase di divulgazione e anche chiamiamola di gestione interna dei dati del volo di settembre potete trovare nel blog una analisi molto approfondita appunto vi dicevo di Francesco Sacchi del volo di di stratosfera dei dati dei sensori di stratosfera intanto sono distratto dal fatto che Riccardo sta mostrando attenzione la scatola del payload di stratosfera è un è il mock-up è un mock-up quello che gli è salito per fare una gag che non ha colto nessuno perché è caduta nel vuoto delle ferie agostane se non sbaglio dico bene ma si avevo fatto un tweet ma nessuno eravate troppo impegnati nel recupero quindi giusto era proprio il giorno del lancio certo e allora se volete leggere l'analisi sia qualitativa per parlare di cosa è stato è caduto Marco nel frattempo di cosa è stato rilevato dai nostri sensori e anche qualche analisi tecnica di cosa è successo ad esempio a Hadarp il nostro rivelatore di radiazione un tubo Geiger con rilevatore costruito da Matteo Negri uno degli utenti del forum storici il nostro Stroteo a un certo punto un progetto mirabile assolutamente non vuole essere lui è molto molto come si dice modesto e ha sempre avuto paura di danneggiare la missione con un progetto poco completo in realtà è un progetto perfetto che nessuno di noi avrebbe saputo assolutamente realizzare e per puro caso ha avuto due fallimenti su due lanci ma ha fornito dati assolutamente di prima di prima qualità nella prima fase del volo e questa volta è molto all'interno del volo è anche interessante capire come il fallimento del tubo Geiger ha avuto effetti anche sulla sulla tensione dell'alimentazione di bordo cose molto molto nerd molto molto geek che interessano soltanto a noi ma penso che noi è una famiglia molto ampia quella dei nerd e dei geek che ascoltano che ascoltano astronauticast e leggono forum astronautico quindi andate statospera.com e godetevi la analisi tecnica c'è Fianor che chiede se in stratospera 4 ci sarà un tubo Tucker nel payload si certo ma aspettate un attimo il tubo Tucker era quello della caldaia di quella specie di super fuffa si mettevi il tubo e risparmiavi chiaramente mi ricordo che c'era stata anche il come si chiama quello che era Pala Sharp qua a Milano addirittura si è chiamato Pala Tucker per un po' di tempo perché avevano probabilmente fatto soglia sufficienza da poter investire in pubblicità in questo modo ed era una fuffa cosa che era? era semplicemente faceva una strozzatura sull'alimentazione e quindi sembrava di consumare meno ma in realtà era strozzare la caldaia o quello dove la montavi però poi un lontano parente di Tucker è andato a lavorare sull'enterprise quindi meglio per lui comunque la Tucker in realtà era stata una marca di autoveicoli negli Stati Uniti ed è stata all'avanguardia talmente all'avanguardia che è fallita subito per D&U è stata la prima vettura ad avere le cinture di sicurezza gli americani non l'hanno comprata perché dicevano che era pericolosa ha messo le cinture di sicurezza certo ma ti fai un incidente con la cintura ti strangoli è pericolosissimo no dicevano che non ero sicura perché c'erano le cinture ah che le cinture ho capito se fosse sicura non avrebbero neanche bisogno di metterle infatti certo certo non fa una grinza allora abbiamo liberato la parte introduttiva molto velocemente avremmo voluto raccontarvi la news del primo lancio di un vettore Soyuz da Kuro invece non è così Marco ci aggiorna sugli ultimi io so soltanto che c'è uno scrub perché prima di pranzo volevo vedere se dovevo fermarmi in ufficio a vedere il lancio oppure no non è stato così ma dunque intanto spero di arrivarvi chiaro perché c'è stato un crollo della connessione mentre parlavate prima loud and clear dal poligono di lancio della Guyana francese che è un territorio d'oltremare perché si trova nella parte meridionale del continente americano poco sopra il Brasile è stata costruita una rampa di lancio adatta a utilizzare i vettori Soyuz gli stessi lanciati dal territorio della Russia anzi del Kazakistan per essere esatti verso la stazione spaziale in realtà questo razzo viene qui lanciato per carichi paganti di tipo non umano quindi satelliti satelliti artificiali e nel dettaglio il primo lancio in assoluto condotto da questa nuova rampa con il lanciatore Soyuz doveva riguardare due satelliti della costellazione Galileo cioè il GPS made in Europe tra virgolette lancio che era atteso per questa sera ma durante il caricamento dei propellenti nel terzo stadio si è verificata un'anomalia tra i sensori che sorvegliano che tutte le operazioni di carico dei reagenti avvengano correttamente e per sicurezza forse anche complice la novità delle operazioni condotte in questa location si è deciso di rimandare di 24 ore e quindi il lancio è stato spostato a domani non mi pare che sia ancora uscita l'ora esatta sarà un po' difficile che questa notizia arrivi puntuale a chi ci ascolta in podcast comunque è probabile che nel momento in cui ci ascolterete sia andato a buon fine il primo lancio che porterà i satelliti gps europei in orbita ricordo solo velocemente che il tweet di ESA dice alle 12.30 come orario ora dell'Europa centrale ok quindi è anche ora italiana sì è nulla ricordo dicevo in chiusura che l'intento dell'ESA è quello di costituire una costellazione di satelliti di posizionamento globale che si affianca a quella gps già esistente creata dagli Stati Uniti a suo tempo e è importante verificare anche che questo doppio lancio vada a buon fine perché non solo sarà un test del lanciatore ma di tutte le procedure delle persone coinvolte nella partenza dei razzi Soyuz dalla Guyana ma anche perché sarà la prima volta che due satelliti verranno lanciati e sarà possibile quindi testare concretamente il buon funzionamento del sistema Galileo e quindi nulla restiamo in attesa del buon esito del lancio di domani vi consiglio di seguirlo sulle pagine di forumastronautico.it che come diceva Michael è un po' in rodaggio ma nonostante questo continua a funzionare correttamente giusto per chiudere il mio intervento volevo ricordare che sul famoso Autotacker di cui parlava Luigi è stato anche realizzato un bellissimo film oltre alle cinture di sicurezza le Autotacker avevano anche i fari sterzanti nel senso che si muovevano contemporaneamente alle ruote consentendo di illuminare meglio la strada in curva naturalmente erano troppo innovativi erano troppo innovativi e sostanzialmente hanno chiuso come dicevi tu or bene speriamo di vedere al più presto questo lancio perché fa una certa impressione vedere il Soyuz in un ambiente assolutamente diverso dalla steppa a cui siamo abituati a vederlo contornato però allora a settembre abbiamo iniziato praticamente ai primi di ottobre il podcast e a settembre c'era stato il rientro di Wars quel satellite americano che ha fatto andare fuori di matto come si dice l'opinione pubblica e i media tradizionali perché insomma è una cosa pericolosissima che arriva dallo spazio potrebbe cadervi in testa aiuto 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 non ho ancora visto questo genere di accanimento forse è già scattato quel meccanismo in cui si abituano alle cose eh sì sì intanto è una cosa che capita per Rossat che è un altro satellite che sta per fare alla stessa fine allora mi sono documentato un attimo perché l'altra volta l'avevo detto ma non non riuscivo a a trovare dei dati affidabili più o meno una volta alla settimana rientra qualcosa di veramente grosso quotidianamente rientra qualcosa ma più o meno una volta alla settimana o terzi stadi o satelliti di qualche genere rientrano e normalmente non c'è nulla da dire perché bruciano completamente nell'atmosfera e sono fatti di hanno masse e componentistica che non ha alcuna possibilità di arrivare a terra in qualunque punto dell'orbita si trovassero a rientrare a terra invece capita come in questo caso che WARS e in questo caso ROSAT due volte vicini a distanza di poco più di un mese qualche satellite un po' più grosso sia previsto che nella sua fase di rientro qualche pezzo sopravviva ROSAT è il nuovo rischio che viene raccontato dai siti del settore fortunatamente non raccolto della news generalista è un satellite lanciato nel 1990 da un delta 2 a Cape Canaveral però è un satellite tedesco infatti ROSAT è un modo più semplice per dire Röntgensat o qualcosa di simile dove Röntgen è il nome di quel famoso fisico che ha scoperto i raggi X se non vado errato infatti ROSAT è un telescopio per raggi X per dare un'idea del tipo come Chandra e come XMM Newton sono i due satelliti raggi X che stanno facendo scienza in questo periodo è tedesco ed è però realizzato con strumentazione inglese e americana non è operativo dal 99 è stato abbandonato in questa orbita a circa 500 km di altezza quindi adesso si trova a circa 200 pensate che ha perso quei 300 km di altitudine in una decina di anni 12 anni e questo è il ratio di discesa che ci si aspetta da un satellite in orbita bassa ha avuto vari guasti primo uno star tracker che non gli permetteva di avere un ottimale orientamento di poter determinare in modo ottimale il suo orientamento rispetto a un sistema di riferimento fisso è stato risolto per un po' di tempo con un sistema di backup fino a quando un giroscopio che è uno dei meccanismi attivi che servono per orientare il satellite senza utilizzare razzi e altri mezzi ad azione e reazione è fallito andando ultraveloce danneggiando l'interno e praticamente lasciando il satellite in uno stato non utilizzabile questo dopo nove anni di attività contro i cinque previsti quindi diciamo un satellite di successo che ha fatto della scienza ho letto anche su wikipedia non ce l'ho davanti una sequenza di primi di first di record di scoperte che ha fatto nel campo dell'astronomia raggi X quindi molto molto interessante e è arrivato anche il momento di rientrare a terra per lui però non essendo facile prevedere dove cade si tratta come per Wars un po' di una lotteria si trova in un'orbita a 53 gradi di inclinazione quindi per dare un'idea me lo sono scritto è tra Edmonton in Canada e la punta più estrema a sud del Cile diciamo che sono tutti punti papabili per avere qualche pezzo di Rossat a terra in realtà è un satellite con una massa un po' inferiore rispetto a Wars sono 400 kg contro i 600 di Wars ma ha della componentistica un po' più massiccia che potrebbe arrivare a terra con una massa maggiore stando a Rossat reentry su twitter.com slash rossat underscore reentry r e e n t r y non sto a farvi lo spelling cercatevelo l'ultima stima lo porta a cadere tra 64 ore in un punto sotto l'equatore e a ovest direi che a occhio potrebbe essere un oceano pacifico però non non sto a garantirlo anche perché sono stime che cambieranno molto molto facilmente fino a poche ore prima non si potrà sapere qual è il punto di di caduta però state tranquilli perché la possibilità di essere colpiti è circa una su qualche trilione c'è un piccolo giallo però che ho letto oggi cercando informazioni su rossat nel 2008 un articolo su business week aveva collegato il fallimento di rossat a una violazione del sistema informatico del goddard space center che era responsabile del controllo del satellite e si diceva che un hacker cattivo o chissà al soldo di chi pare che fosse una intrusione proveniente dalla Russia avesse danneggiato il satellite in realtà a posteriori questa cosa è stata stato stabilito che si tratta di una coincidenza cioè il satellite è fallito nello stesso momento in cui il goddard space center era attaccato in maniera ovviamente informatica però le due cose erano completamente scorrelate però però lasciamo un po' mistero un po' di mistero anche prima quando hai detto c'è uno pacifico ti è scappato un po' rugire non mi sono accorto chiedo scusa allora andiamo avanti con la prossima notizia che vedo nella lista è qualcosa sempre all'attivo al missile Soyuz chi è che ce la racconta Luigi pare che forse l'evacuazione della stazione spaziale sia scongiurata ok sì diciamo che dopo il problema che c'è stato il 24 agosto con il fallito lancio della Progress era rimasto questo dubbio sulla affidabilità dei vettori Soyuz nonostante 1700 lanci comunque essendo un vettore che deve portare anche l'equipaggio umano ovviamente doveva sottostare a diversi controlli dopo che la commissione d'inchiesta russa aveva stabilito che il problema era stato un errore di il fatto di aver trascurato le aver trascurato i più elementari controlli di qualità ecco bravo mi ero arenato grazie dunque controlli di qualità e quindi il terzo stadio aveva interrotto il funzionamento provocando la caduta del cargo Progress si era scongiurato in questo modo anche il fatto che ci fossero dei problemi proprio fisici oppure di costruzione del vettore quindi la commissione d'inchiesta aveva risolto questo problema ovviamente migliorando i controlli di qualità però dato che a bordo della Soyuz devono viaggiare anche gli astronauti americani doveva sottostare anche ad una commissione d'inchiesta americana e in questi giorni è arrivato il 12-13 di ottobre è arrivato l'ok anche da questa commissione d'inchiesta americana dando così la possibilità di ricominciare con le missioni umane verso la ISS diciamo che per i prossimi due lanci che sono il dunque c'è il il 14 novembre che deve partire la 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 con i tre componenti dell'equipaggio della nuova expedition e poi quella del 26 dicembre sono già state costruiti i motori del terzo stadio di queste due lanci sono già stati costruiti con nuovi sistemi di qualità mentre 18 motori che hanno già stati assemblati e parzialmente già montati su diversi vettori dovranno essere rimandati alla fabbrica di Samara in Russia dove vengono appunto costruiti questi motori per delle verifiche ovviamente per essere sicuri che tutto funzioni il prossimo lancio della Progress è il 45 P che dovrebbe avvenire adesso a fine ottobre non mi ricordo se è il 30 mi pare 30 ottobre dovrebbe essere mentre appunto il 14 novembre ci sarà la partenza della prossima Soyuz abitata diciamo che prima della Soyuz abitata essendoci ancora l'altro lancio Progress è ancora un altro test però avendo aumentato tutti questi controlli possiamo essere tranquilli che dopo aver fatto 130 lanci Progress tutti andati a buon fine mi pare che un errore ci stia anche non doveva succedere soprattutto non doveva succedere subito dopo il pensionamento dello shuttle che ovviamente ha messo in crisi tutto il sistema però diciamo che a quanto pare è tutto andato per il meglio quindi ci godremo questi nuovi lanci e questi avvicendamenti secondo la scaletta nuova nuova scaletta prevista sulla stazione spaziale internazionale ok ragazzi siamo veramente efficientissimi questa sera abbiamo praticamente già terminato con le news a meno che appunto essendo news non ci sia qualcosa di breaking cosa c'è di nuovo penso che l'attenzione fosse particolarmente concentrata sul lancio della Soyuz da Curu oggi quindi non essendoci quello più o meno non ci siano reporter pronti a seguire molto altro avevo letto qualcosa prima di andare in trasmissione se non sbaglio SpaceX oggi ha twittato qualcosa riguardo la chiusura ufficiale della fase di design della sua torre di salvataggio per i lanci umani della capsula dragon e quindi ora si comincia a costruire l'hardware e vedremo anche probabilmente qualche test di quello SpaceX è inarrestabile ragazzi abbiamo promesso forse di fare una finestra informativa sui progressi dell'astronautica privata americana per quanto almeno ci viene detto SpaceX è magari un po' parca di dettagli tecnici ma è molto molto brava nel pubblicare e rendere incuriosire un po' il pubblico con questi questi lanci lanci intesi come pubblicazione di informazione ed è inarrestabile pare essere veramente la forza vincente di questa nuova fase dell'astronautica avremo assolutamente modo di seguirla in futuro non abbiamo ospiti non abbiamo Paolo Amoroso non abbiamo nessuno andiamo con l'interludio allora l'altra volta vi ho chiesto una cosa e avete veramente osservato e fatto quello che vi ho chiesto grazie fare delle recensioni sulla pagina iTunes di Astronautica innanzitutto andandovi a controllare se l'avete fatto mi sono accorto di una cosa ovvero che le nostre puntate su iTunes non funzionano se provate a fare un'anteprima da iTunes succede che innanzitutto succede che non riesco a selezionare la telecamera che intendo io ah si adesso si pare che non funzioni non riusciamo ad ascoltare la puntata sono tutte lunghe un secondo e effettivamente se ne sente un secondo e un secondo preciso cercheremo di correggere questa cosa credo sia colpa della CDN che una volta ci auto rilevava la lunghezza degli episodi ora ce la devo mettere a manina e quindi non la metto molto semplicemente ma io vi ho chiesto di mettere delle recensioni delle stelline perché è così che si sale in classifica non ho verificato se abbiamo guadagnato le reposizioni ma le recensioni sono carine ce ne sono 12 valutazioni e qualche commento scritto i più belli sono il primo è una certa odixi che potremmo anche avere un dubbio su chi sia si firma the podcaster's wife e dice qualcuno mi è obbligato a mettere 5 stelline spero che non ci sia io non la conosco io non la conosco sicuro? assolutamente spero che non ci sia un motore semantico che penalizza i commenti chiaramente fatti apposta se la sarebbero tutti penalizzati altri invece molto interessanti sono quello di un certo 208 euro 270 che io ho interpretato come Roberto se lo provate a leggere ipotizzando ci può stare ci può stare secondo me è Roberto che dice unici nel loro gemere è simpatici consigliatissimo non so se unici nel loro gemere è un lapsus freudiano o che cosa però sappiate che siamo unici nel nostro gemere poi c'è Dennis Ferrari che ha lasciato un commento non qui ma su youtube dicendo osceno ci sta abbiamo anche qualcuno che non ci apprezza ma va bene così forse ha visto la stessa cosa che ha visto Roberto visto che l'ha visto gemere ha visto qualcosa di osceno ma Marco ce lo siamo persi eh sì però vedo uno scarmo nero eccolo lì Marco ci sei? no ci sono ma ho tolto l'immagine per risparmiare banda perché mi arrivate talmente male sono corollati i tempi di di risposta a quasi un secondo non so come vi arrivo io no molto molto bene come qualità non saprei come di lei però beh non ti preoccupare torna visibile quando magari ci spostiamo alla tua rubrica altri commenti una Alice Anto che dice interessante podcast per chi è appassionato un'ora che passa scorrevolmente ringraziando gli autori una sola nota stonata trovo la lunga fastidiosa la continua richiesta di donazioni magari una volta ogni tanto sarebbe sufficiente or bene allora cosa mi tocca fare mi tocca questa volta non vi dirò di andare su astronauticas.com non vi dirò che su astronauticas.com ci sono due bottoncini gialli che vi posso anche far vedere nello schermo in questo caso dove potete scegliere se abbonarvi oppure fare una donazione one time non lo dirò però posso invece anzi è sacrosanto e doveroso ringraziare quelli che sono i nostri donatori in questo caso ne abbiamo ho tre email ma mi sa che sono due uno è il nostro Vittorio dell'Aquila che sul forum potete trovare come Vittorio e potete anche ascoltare e guardare al mercoledì sera vorrei poter dirvi il canale preciso ma date un occhio sul forum astronautico e lo trovate è un canale un podcast anche loro in un certo senso dedicato a Orbiter il simulatore orbitale dove fanno più o meno ogni mercoledì sera delle missioni simulate mi pare che ieri sera si siano occupati di parlare delle tute spaziali e in realtà fanno un'attività divulgativa molto molto interessante utilizzando Orbiter come uno strumento di supporto e mostrando quello di cui si parla in una simulazione molto molto realistica grazie Vittorio allora innanzitutto per aver rinnovato la tua membership a ISA l'associazione ISA che potete fare tutti quanti sul sito www.isa.it recentemente migrato al nuovo server quindi potrebbe non funzionare nulla segnalato e invece poi far accendo anche una donazione one time perché non era contento grazie grazie Vittorio l'altra donazione invece che vedo nella lista è un pagamento ricorrente del nostro Raffaele Montagnoni uno dei produttori esecutivi ricorrenti che ogni mese automaticamente ci invia il suo obolo grazie Raffaele astronautica funziona anche grazie a te poi va a finire che tra un po' dovremo spostare di nuovo il forum e tutto il sistema web di Isa in un altro provider e spendere magari qualcosina in più e quindi le vostre donazioni sono letteralmente oro in questo momento grazie 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 Hangout mi chiede se sono ancora qua sono ancora qua ho parlato da solo per due ore ma ci sono ancora passiamo a me non chiede niente non lo so come mai perché muovi il mouse probabilmente sopra la finestra io sto muovendo il mouse ma in altre schermate si in effetti forse quando attivo e disattivo il microfono lui mi vede ah si basta quello basta quello vediamo un po' che cosa dicono ah è vero la chat mi dicono che qualcuno ha lasciato il commento non mi ricordo dove dicendo su facebook mi pare dicendo che detesta la musichina all'apertura della puntata no non mi potete detestare il link on side poch che abbiamo già raccontato che cos'è magari lo facciamo un'altra volta perché altrimenti annoi annoiamo il nostro pubblico però questa sera siamo un po' corti quindi un po' di riempimento non farebbe male comunque si questo mi da lo spunto per dire che potete trovarci anche su facebook ed è un altro modo per aiutarci è quello quando pubblichiamo l'episodio mettiamo il link alla pagina di astronauticas.com oppure del video su youtube fare un bel condividi e farlo conoscere anche a qualcun altro che potrebbe accidentalmente venire in contatto con astronauticas e chissà magari potrebbe anche piacergli non è assolutamente necessario che drognate non lo è assolutamente non lo vogliamo fare non vogliamo non vogliamo sembrare pushy da quel punto di vista scusate basta un commento negativo non mi prendo male ragazzi non ci posso fare niente rubriche ragazzi possiamo andare oltre ho detto tutto grazie riccardo che mi segni ci provo se vi arrivo praticamente in connessione da saturno da mercurio direi si volevo dire da mercurio ecco è caduto è caduto allora nani e ballerina in questo interludio per aspettare il ritorno di marco con la sua rubrica perché l'altra non è che abbiamo molto alto possiamo anticipare il link della settimana uno è la scientifica della musichetta a questo punto abbiamo tempo si ma non me la sono preparata ok no era una musichetta che potevate ascoltare fino a qualche anno fa su una frequenza in la banda dei 20 metri intorno ai 14 MHz qualcosa ed era una musichetta che faceva parte di una number station una number station è una cosa molto molto affascinante per chi si dedica all'ascolto in onde medie o in altre in onde corte in questo caso ma ci sono anche in onde medie ci sono praticamente su ogni frequenza che permette di andare un po' lontano erano un mezzo anzi sono ancora in alcuni casi un mezzo che è molto misterioso che hanno i servizi segreti di vari paesi per comunicare con agenti presenti sul territorio nemico più sicuro di qualsiasi connessione a internet super criptata più sicuro di qualsiasi cellulare satellitare di qualsiasi bigliettino fatto scivolare sotto la porta è trasmettere assolutamente in chiaro e ascoltabile dal mondo intero una sequenza di numeri apparentemente casuali che la gente non la gente ma L apostrofo agente in territorio nemico riesce a decodificare a trasformare in un messaggio intelligibile sfruttando ad esempio un libro io potrei dirvi 9 8 4 2 e dirlo alla nausea tombola e questo potrebbe non significare nulla per chi non è in possesso di un particolare foglio di carta con una sequenza di lettere e sapere che 9 4 non me lo ricordo più che numero ho detto quello lì corrisponde alla prima riga alla nona riga quarta colonna della ottava pagina e del terzo fascicolo e quella è la lettera che compone il messaggio una sequenza di numeri infinita così è un modo assolutamente sicuro e a prova assolutamente di intercettazione a meno che ovviamente non si sia in possesso della chiave per decretarlo per far avere in maniera sicura un messaggio a un agente sotto copertura in un ambiente nemico veramente un residuato della guerra fredda forse c'erano storie di stazioni che trasmettevano da Cuba da Cipro da varie parti del mondo e a volte avevano un accento inglese a volte avevano un accento russo a volte parlavano in inglese ma avevano un forte accento russo a volte parlavano in russo ma avevano un accento molto neutro perché era un sintetizzatore vocale cose molto affascinanti la musichetta non era altro che un riempitivo forse per indicare quale pagina guardare forse per indicare quale il momento era e la musichetta è l'inconshire pocher e lo ascoltiamo lo ascoltavamo sui 14 megards e qualcosa in onde corte non so più che cosa dire Marco non torna Marco se n'è andato non ritorna più sto parlandola sola Luigi l'abbiamo perso Riccardo mi guarda con con compatimento no vabbè no 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 cosa dici facciamo il link della settimana ho visto uno che ha proposto Ricky 3 launchers on the equator non lo mandano vedere cosa sia vado a guardarmelo anch'io così parla Ricky beh sì in realtà abbastanza in tema perché praticamente il link non è non è proprio user friendly perché è proprio freelanchers on the equator torus.com è praticamente un sito che ha aperto Arianspace e parla proprio del poligono di lancio di Kuru dove appunto prima dicevamo che la Soyuz oggi non è riuscita a decollare lo segnalo perché è un sito graficamente abbastanza carino e le informazioni sono reperibili molto facilmente anche se vabbè magari per l'appassionato di astronautica le informazioni che trova sono abbastanza banali ma magari per chi non è avvezzo a questo mondo o comunque vuole avere delle curiosità in maniera immediata può accedere a questo sito dove già in home page vengono presentati subito i tre razzi che possono essere lanciati da questo poligono di plancio oddio cosa è? ha fatto partire il video c'è la musica e abbassamolo un po' che mi stai è al minimo è al minimo ma ti si sente molto bene sopra la musica allora io mi tolgo le cuffie perché no vabbè comunque dicevi in home page potete trovare subito una bella immagine dei tre razzi che possono essere lanciati da lì c'è la Rehan 5 che ormai è un vettore straconosciuto la Soyuz che oggi doveva avere il suo battesimo da questa località e il Vega che speriamo presto possa spiccare il volo perché sappiamo che la partecipazione italiana per questo nuovo vettore è abbastanza importante si diciamo che sono tre lanciatori dall'equatore ma in realtà soltanto uno ancora esatto al momento è soltanto uno che è partito poi ad esempio così tanto perché abbiamo tempo visto che Markov non ritorna anche subito in home page ti viene proposta una domanda perché lanciare dall'equatore forse è una domanda che non tutti sapete come mai forse non tutti sanno che vai forse non tutti sanno che lanciare dall'equatore è conveniente perché essendo la base più vicina all'equatore la Terra ha una velocità di rotazione lineare più elevata all'equatore e quindi il razzo una volta lanciato ha già di guadagno suo più velocità rispetto a lanciare non so dal Kennedy Space Center o da Baikonur sul sito c'è proprio l'esempio della Soyuz che solo per questa differenza di latitudine può portare un payload superiore di circa un terzo perché ha già abbastanza velocità e quindi può caricare un po' meno carburante a vantaggio di un maggior carico utile quindi una curiosità che magari non tutti sanno un altro motivo è che è più semplice raggiungere l'orbita geostazionaria perché bisogna fare meno variazione orbitale per togliere i pochi gradi che separano Kuru dall'equatore per essere a inclinazione zero e potersi quindi mettere in orbita geostazionaria chiaramente c'è anche il contro perché se tu dovessi mandare un satellite in orbita polare eh ma quello è un po' uguale dappertutto l'unico posto in cui forse non hai problemi è al polo l'unico altro posto per lanciare comodamente in orbita equatoriale quindi a inclinazione zero è Sea Launch che essendo una piattaforma in grado di muoversi può portarsi comodamente in prossimità dell'equatore e lanciare da lì per poi avere un'altra base in un altro punto sempre nell'oceano e per le sue operations c'è la nostra San Marco ah c'è la San Marco una volta è vero che essendo in Kenya giusto? si al lago del Kenya si mi pare dalla chat chiedono dov'è Sea Launch bella domanda Sea Launch si muove nel passaggio il Sea World c'è a San Diego ad esempio c'è anche ad Orlando ok qualcuno sa di cosa ci avrebbe parlato Marco Messenger si diciamo che Messenger ci sta mandando delle fotografie spettacolari da Mercurio e sta generando una mappa dettagliatissima della superficie i dettagli purtroppo non li so so che nella sua missione che adesso sono sei mesi che sta facendo fotografie è già a metà della missione primaria e di fatto sta raccogliendo un sacco di informazioni che serviranno saranno molto importanti per Bepi Colombo che è la missione europea giapponese ESA JAXA che dovrà partire nel 2014 e raggiungerà Mercurio anche lei ovviamente tutto quello che sta scoprendo Messenger sono tutte informazioni importanti per Bepi Colombo e che a prescindere dal fatto che saranno già scoperte però potranno permettono di mettere a punto gli strumenti a bordo di Bepi Colombo e ottimizzare anche il suo lavoro ecco a quanto riguarda le immagini della superficie di Mercurio io so che Marco era particolarmente fiero di questa presentazione perché aveva addirittura interpellato un suo amico geologo per avere informazioni e la cognizione di causa per commentare in maniera veramente informata i findings di Messenger però lasciamolo in sospeso sì sì ma si può sempre tanto è una notizia abbastanza vecchia del 6 ottobre potevamo già parlarne nella prima puntata lui se l'è tenuta in caldo proprio proprio perché voleva aspettare di avere occasione di incontrare questo suo amico geologo adesso la notizia è lunghissima proprio c'è una descrizione sì perché è abbastanza dettagliata appunto la parte che spiega il vulcanismo il vulcanismo oddio il vulcanismo no il vulcanismo penso perché tra vulcanismo e vulcanismo la differenza no 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 vulcanismo è sempre una religione basta fare anni appunto ci sono molte ci sono trovate molte sorprese dal punto di vista dell'evoluzione geologica quindi se Marco ha anche interpretato un suo amico geologo diventa interessante ascoltarlo quindi facciamo anche questa specie di trailer per la prossima puntata per gli ascoltatori this summer this summer prossimamente su Astronautica beh possiamo chiudere la puntata siamo veramente corti però abbiamo finito quello di cui parlare è un peccato ragazzi possiamo discutere del titolo 40 minuti diciamo che messanger in realtà è un acronimo e vuol dire Mercury Surface Space Environment Geochemistry and Ranging stiamo praticamente cavando sangue dalle rape come si dice in termini tecnici purtroppo la banda non ci è amica questa sera possiamo fare un 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 poll con la nostra chat che titolo diamo all'episodio ragazzi di solito questa cosa accade in after party abbiamo un punta di after party in diretta a chi di cosa parliamo nani e ballerine opzione ah ok giusto segnalazione segnalazione di eventi Nespoli a Genova al festival della scienza di Genova chi ne sa di più c'è anche Samantha no direi Parmitano e Simonetta di Pippo no Samantha non c'è vedi ho voluto dire la cosa che non sapevo e subito tac ma io mi sono spinto a dire festival della scienza di Genova perché da qualche parte mi era rimasto in testa nessuno mi ha corretto credo sia corretto sì sì giusto chiama Exelion così ci spiega lui in diretta va bene usiamo le potenzialità di Hangout Ops Exelion non linkare adesso ti tiriamo dentro Exelion devi andare su Google Plus dovresti trovare un ultimo invito Exelion perché è molto preso in causa in questa cosa perché essendo lui di Genova chi meglio di lui ci può raccontare quello che accadrà al festival della scienza c'è un problema magari non è presentabile vabbè basta che serviva l'audio magari non è neanche l'audio niente c'è un problema tecnico sentiamo puoi fare dei gesti un problema tecnico non ha il microfono c'è uno che passa le ore a spammare in chat la sua fama di tecnologia che ha 50.000 dispositivi che compra un Mac al giorno un Transformer al giorno non un Optimus Prime un Transformer dell'Asus e poi compra vende e poi non ha un microfono ma la webcam non ci interessa ci interessa non c'avevi un Macbook un qualcosa qualcuno dice che è di Genova vanni tra l'altro il nuovo ascoltatore il nuovo ascoltatore che si prende già queste queste come si dice confidenze con i nostri ascoltatori storici ci tocca prendere le sue difese giustamente c'è Lilla che vuole subentrare dillo a me che mi collego io dai va bene sei su Google Plus no no niente ci ritirano tutti dalla dalla competition comunque Exelion da te questo non me lo sarei mai aspettato ok vogliamo un volontario altrimenti facciamo un wrap up che si può anche finire 5 minuti prima che non succede nulla la puntata da un'ora non ce l'ha scritta l'ottore però era bello che mi piaceva sta cosa perché per chi non lo sapesse uno dei nostri propositi era ma si dai facciamo partecipare più da chat tiriamoli dentro però poi Exelion si fa i suoi certo però rispondono cuckoo rende comunque dal link dice Simonetto Di Pippo Paolo Nespoli Luca Parmitano moderatore Luca Tancredi Barone introduttore Maurizio Martelli diciamo bene quando dunque il festival della scienza ha degli eventi che vanno dal 21 ottobre al 2 novembre in particolare questo con Nespoli Parmitano è il 22 di ottobre quindi sabato sabato sì sabato alle ore 21 presso l'aula polivalente San Salvatore e comunque tutte le informazioni le potete trovare sul sito festivalscienza.it direi che c'è mappa pdf e l'elenco di tutto il resto delle manifestazioni giorno per giorno quando abbiamo detto che è? il 22 22 di ottobre sabato quindi la conferenza si chiama a spasso tra le stelle accidenti ma sono tantissimi gli eventi ecco Marco too little too late ciao Marco buonasera ragazzi voi non ci crederete ma mentre ero fuori linea mi sono registrato la mia rubrica che ho stato in formato OGG se vuoi fare un po' di post produzione si ma non assolutamente stasera perché ne parliamo più tardi no va bene possiamo farla magari coprire questo sprolocco che abbiamo fatto rimarrà soltanto su youtube nella versione video va bene dispiacemente molto ma la connessione dire che stasera è stata di merda è fargli un complimento ma siamo ancora in registrazione siamo ancora in diretta tocca mettere un bip no ma allora sentite se abbiamo se siamo abituati ad avere ministri in canottiera che fruffano medio e rilasciano dichiarazioni a parolacce io non vedo perché non posso esprimere la mia frustrazione almeno dopo le 23 a un minuto insomma infatti i fondi per la banda larga sono spariti ancora giusto i fondi per la banda larga li userei per allargare una una feritoia che farei a colpidaccio in fronte a qualche illustratico capace veramente di pensare solo a ai cavoli suoi e non alla nostra povera Italia ma va bene va bene allora sei arrivato giusto giusto per i saluti finali Marco abbiamo registrato anche quelli probabilmente ecco è ricomparsa ma in realtà guardate si perdono pacchetti su almeno tre punti del della catena vedo qua la fibra neutrinica non funziona questa sera astronautiche studio su remoti in panne è franato in una galleria delle tante si si è venuta già qui sulla strada del paesello e il tunnel gelmini va bene tagliamo la corta io vi do l'appuntamento alla prossima settimana il 27 di ottobre le ore sono 21 e 30 cominciamo a collegarci poi vediamo quando si comincia circa le 22 ma cerchiamo di fare un po' prima astronauticast.com slash live fino ad allora ci potete trovare su astronauticast.com in podcast oppure su itunes oppure su youtube.com slash astronauticast altrimenti facebook.com slash astronauticast altrimenti praticamente ovunque cerchiamo di essere come il prezzemolo da parte mia Michael Sacchi astronautica studio di Milano è tutto da Erwe vediamo se riusciamo a far arrivare un saluto che non sia una cartolina statica vedo che si è avvicinato al microfono sta anche facendo andare alla bocca Marco si gratta prendi moreno ci ho provato lo prendiamo per un saluto lo prendiamo per un saluto Luigi Moriali da Carmagnola ciao a tutti alla prossima Riccardo Rossi da Mala saluto tutti perché mi hanno detto che all'inizio dell'appuntato ho salutato come l'ho detto sembrava che salutavo solo quelli di Modena ma io saluto tutti io sono di Modena Riccardo Rossi per gli amici di Riccariare appuntamento a giovedì prossimo fino ad allora ad Astra grazie a tutti ciao a tutti ciao a tutti Marco Immobile Ciao a tutti Alla prossima